E finisce così la partita allo stadio Giuseppe Meazza a San Siro, il Milan perde in casa 1-0 contro il Napoli, quindi il Napoli fa il colpaccio e vince a Milano contro il Milan, partita stradominata dal Napoli, meritata la vittoria del Napoli, il Milan oggi è stato abbastanza inguardabile e ora ve ne parlo meglio nel video. Ciao ragazzi e bentornati in questo video, siamo di nuovo qui nel Giapiaz commentare e commentare post partita di Milano a Napoli che finisce 0-1, prima di tutto ciò vi invito con la rete di Ippolitano, quindi vi invito appunto a iscrivervi al canale, attivate la campanella, manca poco ai 1300 iscritti, iscrivetevi, quindi campanella attiva, un bel mi piace, un commento scrivendomi, secondo voi se avete visto la partita che ne pensate, se la vittoria del Napoli è merita, secondo me si merita. Strameritava le vince, voi se avete visto la vostra, chi vi è piaciuto e chi non vi è piaciuto e mi raccomando passate nella descrizione, seguitemi sui social, sulla piattaforma Viola appunto dove faccio le live e ovviamente seguitemi su Instagram. Se vi siete persi l'ultimo video vi ricordo di andare a recuperare, è uscito il post partita della Roma e anche altri post partita li trovate qui sopra nelle schede a fine video. Parlando della partita del Napoli, già dall'inizio inizia subito meglio rispetto al Milan, Milan che è una squadra più attendista, ovvero fa giocare il Napoli e prova a riportire in contropiede, però diciamo che soffre molto questo Milan, tante tante assenze, mancavano Calabria, mancava Kier, mancava Romagnoli, mancava Ibraimovic, mancava Benazer, mancava Rebic che stava in panchina, mancavano tanti giocatori, quindi diciamo un Milan con le riserve tra virgolette, il Napoli mentre pure il Napoli c'era qualche assenza. Comunque, complessivamente il Napoli gioca subito bene, ci sono varie occasioni, se non sbaglio una c'è una parata di Donnarumma, non mi ricordo sul tiro di chi, sul tiro di Zielischi, in mezza rovesciata più o meno, un tiro a mezz'aria, praticamente c'è un intervento miracoloso di Donnarumma, diciamo al primo tempo non ci sono state tantissime occasioni, un po' più il Napoli ce l'ha avuto delle occasioni, diciamo tra virgolette, rispetto al Milan che praticamente è 0-0, niente proprio nel primo tempo. Nel secondo tempo ci sono i cambi, innanzitutto arriva il gol dell'1-0 al 49esimo, la rete di Matteo Politano, errore gigantesco di Chessy che lascia un buco a centrocampo, Napoli ne approfitta, arriva la palla, passaggio di Zielischi, passaggio filtrante di Zielischi appunto per Matteo Politano e segna il gol, pallone, raso di terra, basso, teso e abbastanza lento, però diciamo abbastanza difficile da prendere per Donnarumma perché stava sul secondo palo, il pallone della fine sul secondo palo non ci è arrivato e quindi 1-0 per il Napoli, segna l'ennesimo gol decisivo Matteo Politano, questo Politano a Napoli è ritrovato rispetto al Politano che abbiamo visto all'Inter o al Sassuolo pure, insomma questo Politano è diventato ormai un giocatore fondamentale per la rosa di Gattuso, adesso quando tornerà pure Lozano sarà un bel duello. Poi il Milan fa le sostituzioni, entrano i vari Rebic, Saleemakers, esce, quindi appunto entra Rebic, Saleemakers e Auge e il Milan un pochettino inizia un po' a giocare, però non riesce a trovare concretezza perché manca proprio una punta di peso come Ibrahimovic, secondo me la punta di peso se sta facendo sotto in queste ultime giornate, soprattutto nei big match, uno come Ibra magari te potrà risolvere questa partita, però mancando Ibra. Poi se fa male Leao, esce Leao, il Rebic va a giocare la prima punta, anche Rebic fallisce e tra l'altro c'è un presunto rigore per il Milan, fallo di Bacayoko su chi era, non mi ricordo, su Teo Hernandez però secondo me ci poteva stare il rigore, ci poteva stare, però comunque Milan non meritava assolutamente cioè non meritava neanche il pareggio, meritava di perde perché il Napoli oggi ha giocato molto meglio anche se ci poteva stare il rigore per il Milan. L'arbitro Pasqua l'ha vista al VAR e non l'ha segnato, ha detto che il fallo non era così netto e quindi non è stato dato il fallo e poi subito dopo riparte in contropiede il Napoli fa lo suo simen di Teo Hernandez un po' infuriato, lì c'era secondo me il rosso in questo caso visto che non è stato dato il rigore, in questo caso ci sarebbe dovuto essere il rosso perché Teo Hernandez non viene dato, viene solo ammonito e poi poco dopo si fa cacciare al novantesimo, probabilmente si fa cacciare Ebbic perché protesta contro l'arbitro, non so che gli dice comunque finisce 1-0 per il Napoli con la rete di Politano voglio sapere la vostra qui sotto, vi vado a leggere velocemente le statistiche guarda ve li dico subito, il Milan ha fatto 5 tiri in porta, 13 tiri 5 in porta però diciamo non erano tiri pericolosi, il Napoli 15 tiri 4 in porta però è stato molto più pericoloso il Napoli e più concreto ovviamente poi vi vado a leggere innanzitutto la classifica che vede sempre al primo posto l'Inter ha 65 punti, secondo il Milan ancora ha 56 punti, terza la Juventus ha 55 punti con una partita in meno deve recuperare con il Napoli poi l'Atalanta quarta ha 52 punti, il Napoli quinto ha 50 punti con una partita in meno la Roma, la mia Roma al sesto posto ha 50 punti rimasta e la Lazio settima ha 46 punti, diciamo questa è un po' la classifica delle big fate sapere che ne pensate, il Napoli ce la può fanno in Champions secondo me c'ha la rosa per combattere come la Roma, come l'Atalanta e come il Napoli secondo me sono le tre squadre che lotteranno per andare in Champions però io ho paura per la Roma, senza veritù, senza Mkhitaryan non si va da nessuna parte purtroppo rientrano dopo la sosta quindi io spero che arrivi il dopo la sosta il prima possibile niente ragazzi da qui è tutto, noi come al social vediamo un prossimo video bella ragazzi, sempre e comunque forza il calcio, vamos, ciao ragazzi bella ragazzi bella ragazzi